Vai! Vai! No, no! No! Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, guarda in sicura la testa. He's going ahead, I'm going ahead. Bye, bye! Can I wash my hands? Yes! No, don't worry. This is one thing. 15 minutes, 30 minutes. Take a angle. Love. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chiudi la mano sinistra, chiudi la mano sinistra sul colo. Esci con la tua mano dentro e vai a prendere la sinistra. Vai dentro, tieno con la mano sinistra, tieno con la mano sinistra, vai dentro con la tua mano dentro sopra la spalla. Sopra la spalla e tira dentro. Tira, 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 tira. Sfila via la testa, il lavoro di nonno. Sfila via la testa. Chiudi, chiudi. Chiudi, chiudi. Chiudi, chiudi. Chiudi, chiudi. Chiudi, chiudi. Chiudi. Bravo, bravo. Chiudi, chiudi. 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 Grazie.